Ciao a tutti! Allora, sempre riguardo al tema della scelta e della genetica, c'è un argomento, una credenza molto diffusa, questa volta all'interno delle comunità LGBT per esempio. L'argomento è questo, siccome l'omosessualità è innata, allora non è modificabile, non è scelta e non è sbagliata, quindi non è perseguibile dalla legge. Lady Gaga, per esempio, esprime questo ragionamento nella sua canzone Born This Way. Allora, piccola parentesi, che si nasca omosessuali allo stato attuale delle nostre conoscenze è molto probabile, anche se non è stato dimostrato inequivocabilmente. Comunque ammettiamo pure che si nasca omosessuali. Allora, se l'omosessualità è innata, potrebbe comunque essere modificabile. Per esempio, uno psicologo potrebbe sostenere di aver trovato un modo per cambiare l'orientamento sessuale. Come vedremo però, alcune ricerche mostrano che è molto improbabile che la psicologia possa intervenire nella pulsione sessuale. Mi sto riferendo al Near Perfect Quasi Experiment, un esperimento che vedremo più avanti. Ma inoltre, nessuno pensa mai al fatto che se l'omosessualità fosse innata e genetica, comunque grazie alle tecnologie di modificazione genetica, in futuro magari si potrebbe quindi, per esempio, rimuovere il gene dell'omosessualità. Quindi anche se l'omosessualità è innata, comunque potrebbe essere modificabile. Viceversa, se l'omosessualità è acquisita, cioè se si impara, se è il risultato, per esempio, di una madre troppo presente, un padre troppo assente, così via, allora è una scelta? No, comunque non sarebbe una scelta, sarebbe qualcosa che accade al soggetto. Come quando diciamo che un individuo è timido. È timido perché ha scelto di essere timido? No, piuttosto è timido perché le esperienze della vita lo hanno reso così. E se l'omosessualità è acquisita, allora può essere modificabile? Molti psicologi dicono, beh, siccome l'omosessualità si impara, allora può essere disimparata. Ma anche questo non è per niente ovvio, perché potrebbe benissimo esistere una fase critica superata la quale la pulsione sessuale si cristallizza e quindi il cambiamento è impossibile anche se essa è acquisita. Poi certamente è sensato che uno Stato non punisca gli individui in base alle loro caratteristiche innate, come per esempio il sesso, l'etnia e così via. Però uno Stato può punire gli individui per i comportamenti, perché i comportamenti sono stati scelti dall'individuo. Ecco, e allora il fatto che uno è nato omosessuale non giustifica il comportamento omosessuale, allo stesso modo in cui il fatto che uno nasce con un temperamento irascibile non giustifica gli atti di ira, le aggressioni. Dunque, per giustificare il comportamento omosessuale bisogna dimostrare che questo comportamento non reca svantaggi le altre persone, non è pericoloso per lo Stato. Questo giustifica il comportamento, non il fatto che esso è innato. Allora, in questo video e nel precedente ho mostrato che se l'omosessualità è innata, non per questo il comportamento non è una scelta e non per questo non è modificabile. E poi ho dimostrato anche che se l'omosessualità invece è acquisita, cioè è risultato di circostanze ambientali, familiari, non per questo allora essa è scelta e non per questo allora essa è modificabile. Quindi ora chiudiamo questo discorso e abbiamo capito che l'orientamento omosessuale non è una scelta né se è innato né se è acquisito e il comportamento omosessuale è sempre una scelta. Infatti scrivono gli autori di Sexual Orientation Controversy in Science che la questione della scelta dell'orientamento sessuale rappresenta una confusione intellettuale e nessuna scoperta scientifica chiarirà il problema in modo interessante. Bene, quindi abbiamo finalmente chiarito la differenza tra comportamento e orientamento, ora sapete che nel video che farò in futuro io parlerò dell'orientamento. Perché? Perché il comportamento è qualcosa che si addice di più a un sociologo. Io invece sono interessato alla vera e propria pulsione omosessuale. Nel prossimo video per esempio vedremo come si misura questa pulsione. Io ritengo che se le ricerche scientifiche smettessero di indagare il comportamento sessuale e si concentrassero invece di più sull'orientamento allora i risultati sarebbero molto più utili.